Purtroppo sembra non arrestarsi questi atti di violenza verso gli infermieri oppure i medici negli ospedali. L'ultima è venuta proprio all'ospedale dell'Angelo questa mattina domenica in cui due infermieri sono riuscite a gestire bene la situazione perché un uomo di origine irlandese, praticamente ubriaco spolpo, nel comunicato parlano di stato di forte alterazione da alcol e a un certo punto è andato via con i suoi e ha cominciato a cercare di aggredire il personale del pronto soccorso tra cui rompendo 8 schermi, grandi schermi segnaletici, lanciando le sedi, facendo tutta una serie di danni. Le infermieri sono state brave a riuscire a mettere tutti quanti le persone che avevano bisogno del pronto soccorso all'interno della guardiola e tra l'altro era arrivata una signora che era in travaglio doveva partorire e sono riuscite a fargli capire di andare oltre e andare direttamente all'ostitricia. Non c'è stato nessun ferito ma ci sono stati danni ingenti di migliaia di euro, uno schermo costerà 400-500 euro come al minimo senza contare il lavoro per il ripristino. Nelle dichiarazioni del direttore generale dottore Edgardo Contato siamo indignati per quanto accaduto e fieri della reazione esemplare del nostro personale. Abbiamo immediatamente attivato un team di supporto psicologico per aiutare gli operatori a elaborare questo trauma. Le infermiere Chiara Maria Pia e la primaria Mara Rosada rappresentano il simbolo della nostra lotta contro la violenza in linea con il significato del 25 novembre giornata mondiale contro la violenza delle donne. Anche la primaria del pronto soccorso dottoressa Mara Rosada ha espresso la sua forte preoccupazione per la crescente escalation di violenze nelle parti di emergenza. C'è anche un passaggio delle infermiere abbiamo capito subito che sarebbe passato dai gesti minacciosi alla violenza e abbiamo fatto tutto per mettere in salvo i pazienti. La fortuna è stata che la sala attesa non fosse piena essendo domenica mattina è stato terribile e ci sentivamo in trappola. Ci permettiamo un commento se non ci sarà un inesprimento delle pene per chi fa questi comportamenti qui sarebbe immediatamente sei mesi di galera e senza tante probabilmente qualcuno ci penserebbe due volte a fare qualcosa del genere. La nostra solidarietà ovviamente al personale femministico mego è una cosa veramente pazzesca, pazzesca. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.